Non si fermano gli accertamenti dopo il violento incendio che lunedì pomeriggio ha divorato un'ala della galvanica Formelli. Mentre sul posto sono tornati i vigili del fuoco e la polizia giudiziaria, ci sono i primi sopralluoghi e rilevi da parte dell'ARPAT che ha stilato un bilancio degli interventi svolti dal proprio personale. In particolare è stata svolta da parte del settore modellistica previsionale una valutazione per individuare le zone di ricaduta maggiormente interessate dal rilascio delle sostanze. Di fatto le aree interessate sono collocate in un raggio abbastanza ampio di circa 3 chilometri rispetto alla posizione dell'azienda. Il Dipartimento ARPAT di Arezzo ha indicato al Comune l'opportunità di disporre tramite ordinanza sindacale il divieto di attingere acqua dai pozzi e da eventuali torrenti limitrofi, rimandando all'ASL competente per gli ulteriori aspetti sanitari. Questa indicazione si va ad aggiungere a quelle già esistenti e comunicate dal lente che prevedono di tenere le finestre chiuse, non stare troppo tempo all'aperto, non mangiare frutta e verdura presenti negli orti.